Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, io sono Adix come sempre. Allora ragazzi, il 19 aprile è stato il compleanno di mio fratello e ho avuto un'idea, praticamente lui sappiamo che, noi della famiglia sappiamo che è appassionato di moto, ma soprattutto di Valentino Rossi, come tante comunque persone che sono dei fan accaniti. Ultimamente su Facebook girava un post, una pubblicità diciamo, dove presentavano un cofanetto, un cofanetto con dentro un album con delle figurine, dove ovviamente andarle poi ad applicare su questa specie di album, perché, eh sì, un album, ma questo album, tra virgolette, racconta anche un po' la storia di Valentino Rossi, le corse che ha fatto, i campionati, tutto quanto. Però la particolarità di questo oggetto, di questo album, cos'è? che scaricando un'app, poi farò anche un video dedicato a questo regalo, quindi lo vedremo poi meglio nel dettaglio, quindi iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, così vi arriva la notifica sul cellulare, e potete andare poi a vedere il video di questo album. Cosa fa, dicevo? Si scarica questa applicazione sia sul sistema Android che o Apple, e ti permette di andare a scannarizzare la figurina, e ti fa vedere in, si dice, hanno scritto realtà aumentata, come fosse virtuale, tu vedi proprio in atto la gara, capito? E come fosse in televisione, uguale, e quest'app ti indirizza al video della gara di Valentino Rossi, con le sue gare, tutte queste cose qua, ed è una figata, quindi ho pensato, penso che fagli un bel, anzi l'ho preso insieme ai miei genitori, e ho detto, ma di sicuro penso che le piacerà, e l'abbiamo preso. Adesso questa è stata una breve introduzione per farvi capire che cosa è successo, adesso vi lascio però al video che già si vede poi il regalo, ma poi ci sarà un video, ripeto, dedicato solo al regalo, vediamo come funziona l'app e tutto quanto. Quindi ragazzi, guardatevi il video fino alla fine, e noi ci vediamo al prossimo video, condividete questo video ovunque, se vi è piaciuto lasciate un like, un commento qua sotto, e al prossimo video. Ciao a voi. Siete rimasti tra le mani. Questo è di nostro praticamente. Fai piano solo ad aprirlo. Vedo che non c'è il tuo carro, tra tre anni non ti facciamo più niente. Fai solo piano perché è una cosa particolare. Ti do le forbici. C'è il coltello, Mauro. No, ci devi mangiare il coltello. Infatti prendi il tuo. Non prendere il coltello. Non prendere il coltello. Non prendere il coltello. Tocco. E' attento, eh. Deve prendere le cose. Eh, ma se dentro si rovina. Ma, va. Spesso si ti cade. Ciao, ciao, Medaro. Cos'hai preso? Così Valentino Rossi? Tu non sei a posto. Ma l'hai vista anche su Facebook? Valentino Rossi. E' un album di figurine. Ogni figurina tu vai col telefono. Eh, lo so. Vai sull'app. E si vede tutto il video per la figurina. E poi dobbiamo fare un video dedicato a questo, eh. A come funziona. Ti piace? Eh. C'hai anche le figurine qui anche, eh. Ah, c'è vero. Perché metti il telefono sopra. Ti fa la carriera. Ti fa la... Ti fa vedere tutte le gare. Sono in quella scatola. Ecco, il primo che lo tocco, gli spaccano le mani. Hai le figurine. Ma mi sembra che c'era anche una borsetta, una borsa... Sì, quella. Sotto. Adesso mi tocca comprare un'altra vetrinetta. E' perché non ti sta questo? No. Hai voglia a metterle, eh? Eh. È una tecnologia, eh. Vai sopra e ti fa vedere quella cosa. Eh, dove puoi vedere come farlo. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, condividi e lascia un bel like. Sotto.